dai compiti scolastici alle faccende domestiche è molto più semplice portare a termine i propri doveri quando la famiglia si attiene a una routine facile da seguire e nella quale trova tempo per divertirsi insieme. Con la creazione di un programma che comprenda compiti scolastici, tempi di gioco, pasti e sonno è possibile aiutare il vostro bambino a sentirsi protetto e sicuro. Chiedete ai bambini e agli adolescenti di aiutare a pianificare la loro routine in quanto è più probabile che si attengono al programma se hanno contribuito alla sua creazione. Potete anche aiutare i più piccoli insegnandogli la loro routine seguendoli passo passo nelle loro attività. Ricorda che i richiami possono essere anche molto utili in quanto danno al tuo bambino il tempo per prepararsi alla propria attività. Per esempio puoi dire tra 5 minuti sarà ora di concludere questa attività prima di andare a cena. Dare una routine e dormire è di fondamentale importanza per i bambini. Se non ripostano abbastanza diventano irritabili e irrascibili. Di seguito alcuni punti per aiutare il tuo bambino prepararsi per andare a dormire. Prova a mettere il bambino a letto alla stessa ora ogni sera. Mantieni il silenzio e la luce soffusa nella stanza. Dedica del tempo per rilassarti con il tuo bambino prima di andare a letto. Si potrebbe cantare una nina nanna o raccontare una storia tranquilla. Dai al tuo bambino un abbraccio e il bacio della buonamotte prima di lasciare la sua cameretta. Quando la vita è molto impegnata le routine possono aiutare a sentirsi più organizzati e meno stressati. Tutto questo può anche aiutare la tua famiglia a svolgere compiti quotidiani in modo rapido ed efficiente lasciando più tempo per attività divertenti.